Tune into English Tune into English Hello everybody, this is Fergal Katna Benvenuti a Tune into English La spiegazione della vostra canzone preferita Insieme a Speak Up E oggi ragazzi parliamo degli giorni Delle settemane What are the days of the week? First Monday Tuesday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Good, let's drive in with the Black Eyed Bees One day, two day, one day Friday, Saturday, Saturday Sunday, I'm gonna keep you Good, 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 I'm gonna keep you tutti i sette giorni della settimana. Però poi nel 2015 sono arrivati gli avvici con Waiting for Love dove loro abbinano un'azione o una cosa ad ogni giorno della settimana. Ok, 7 immagini. Quale giorno è associato con quale immagine? Alla prossima. Here we go, listen to everyone. Waiting for Love to come around. Ecco, l'una settimana intera aspettando l'amore è Waiting for Love to come around. E quindi aspettiamo in un futuro un singolo da lì a dici che se intitola I found Love ho trovato l'amore magari. Spero anche che voi le trovate se non l'avete già trovato. Tune into English insieme a Speak Up vi saluto. Bye bye.